Sì, partite le prime nuove attività che abbiamo fatto a prendere, un giro provato di una posta in questa finale, 12 giri a mese, un piccolo regionale in palio. Siamo aiutomani di un'altra parte, guardiamo i tempi di questa prima battaglia, è la numero 506, numero 438, per la redna numero 824, numero 464. E la battaglia in un gruppo classico. Partite anche queste due a tre. Guarda invece, levate. Guarda quindi, siamo al missio di noi, vediamo come la battaglia. Guarda allora, iniziamo, vediamo, vediamo. Partite le due a rete. Siamo in primo passaggio per il traguardo, sarebbe il numero 108, 26 e 139 per la scelta. Siamo in prima curva per loro, praticamente al traguardo e ecco i tempi, alla rete numero 417. Siamo in prima curva per loro e siamo in prima curva per i tempi e darci il migliore risultato. Siamo in prima curva per i tempi. Siamo in prima curva per i tempi. Siamo in prima curva per i tempi. Siamo in prima curva.